L'amministrazione comunale di Carovigno ha voluto tributare l'impegno dimostrato nella lotta alla criminalità da parte del commissariato di Ustuni. Sono state consegnate otto civiche benemerenze come testimonianza di gratitudine dell'intera comunità carovignese, tra i premiati il dirigente capo Gianni Albano ed altri sette poliziotti. Il fatto di essere vicino ai cittadini è una costante, la sicurezza è questa sera grazie alla presenza del questore, grazie alla presenza del vice prefetto, grazie alla presenza del commissario, della sua eccellenza Ilvesco e della cittadinanza, abbiamo voluto dare il messaggio forte di come le istituzioni sono vicine ai cittadini. Le motivazioni sono quelle che il commissariato di polizia quest'anno si è adoperato al massimo per risolvere tante problematiche. Un'iniziativa che quest'anno è stata intrapresa per il comando di polizia, per la polizia, sicuramente considerato la vicinanza che abbiamo alle istituzioni, alle forze dell'ordine presenti sul territorio, avremo modo di ripeterci con altre forze dell'ordine. Noi stiamo facendo di tutto grazie alla presenza sul territorio, ma stiamo cercando di intensificare ancora di più quella che è la sicurezza, anche con servizi di videosorveglianza che stiamo impiantando in tutta la cittadina. Andremo avanti su questa strada lavorando sinergicamente con le forze dell'ordine perché là, ripeto, il primo punto, il punto cardine è la sicurezza dei cittadini. Mi ha fatto piacere partecipare a questa bellissima iniziativa che non è solo del sindaco Carmine Brandi che ringrazio affettuosamente, ma quale rappresentante dell'intera popolazione di Carovigno e quale espressione della popolazione di Carovigno proviene da tutta la popolazione e per questo sono ancora più felice di questa beneverenza che è stata attributata a parte del personale del commissariato della Polizia di Stato di Ostuni. Riconoscimento importante che dà lustro e visibilità ai sacrifici del commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni e del personale tutto, in particolare dei ragazzi che sono stati insigniti di questo importante attestato di merito. Un'attività la nostra che, come risaputo, si concentra prevalentemente in Ostuni perché Ostuni è una realtà con la R maiuscola e che soprattutto nel periodo estivo ci ha tenuti tanto impegnati su tantissimi fronti di decisiva rilevanza, ma è un commissariato che, come dissi un anno orsono al momento del mio insediamento, ha ovviamente le porte aperte nei confronti della cittadinanza perché è importante che noi si possa contare sugli occhi, sulle orecchie del senso civico della gente, per la quale lavoriamo cercando di far sì che sinergicamente con il concorso anche delle altre istituzioni e questa serata, nella dimostrazione tangibile, si possa tutti quanti insieme, ognuno per le proprie competenze precipue, garantire la sicurezza e far sì che questo non sia un bene astratto ma un bene percepito effettivamente dalla collettività.